Benvenuti al nostro programma. Speriamo che ti sia utile e iniziamo con una notizia dell'Agenzia F. Secondo è Stephen Jokins l'umanità o colonizza lo spazio o scompare. Tremenda notizia, titolo tremendo. Ebbene sì, questo brillante scienziato lavora presso l'Università di Cambridge in Inghilterra ed è considerato la mente più brillante del nostro tempo del calibro di Einstein o Isaac Newton. Afferma che è solo fortuna che l'umanità non si sia già estinta mediante una guerra nucleare. Infatti, dice, solo per caso non avvenne, per esempio, nel 1963 durante il conflitto per i missili di Cuba, Stati Uniti e Russia. Davvero poco mancò che degenerasse in una guerra nucleare che facilmente avrebbe potuto porre termine alla vita sul pianeta. L'articolo afferma è necessario riflettere seriamente sul modo con cui svincolarci dai limiti di questo pianeta agonizzante. Affermazione tremenda, vero? In parole povere Jokins sta dicendo è ora di sbarazzarci della madre terra. Terribili parole che ne dici, tragica sentenza. Che tragico leggere sui giornali una simile dichiarazione che afferma di fatto dobbiamo pensare seriamente a un modo per sbarazzarci di questo pianeta agonizzante. Pianeta agonizzante. Secondo Stephen Jokins e altri scienziati avremmo solo due possibilità. O colonizzare lo spazio, andare altrove, popolare l'universo e vivere fuori della terra, oppure rigenerare il pianeta terra. Ma gli esseri umani sono in grado di rigenerare il pianeta terra? Ma se non siamo capaci neppure a evitare di distruggerlo. È così. Le risorse naturali si stanno esaurendo a un ritmo superiore a quello con cui riusciamo a sostituirle con energie rinnovabili. Il surriscaldamento del pianeta e l'inquinamento crescono senza che noi riusciamo a evitarlo e nemmeno a contenerlo. Però la buona notizia è che Dio lui sia deciso di rigenerare il pianeta. Allo stato attuale l'uomo potrebbe continuare a vivere sulla terra o dovrebbe traslocare altrove? Le buone notizie sono sì, l'umanità continuerà a vivere sul pianeta terra e vivrà in pace. Consultiamo il testo biblico di Matteo 25 che dal Vangelo ci riporta le parole di Gesù. Allora il re dirà a quelli della sua destra venite voi i benedetti dal padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E che cos'è questo regno? È in cielo o sulla terra? In che tipo di regno gli esseri umani vivranno per sempre? Dove trascorreranno l'eternità? In cielo o sulla terra? Risponderemo a queste domande con le parole di Gesù che fanno chiarezza in merito. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Erediteranno che cosa? La terra. Il futuro dell'umanità è sulla terra. In Seconda Pietro, capitolo 3, è scritto Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridento, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. In quel giorno i cieli saranno arroventati e crepitanti e gli elementi si dissolveranno arroventati dal fuoco. Questo sarà davvero un periodo di depurazione, un'autentica purificazione della terra. È certo che l'essere umano non è in grado di rigenerare il pianeta. È un compito che è troppo arduo per noi esseri umani. Ma Dio promise di farlo. Egli ha promesso di restaurare questo pianeta. E noi ringraziamo il Signore perché conosce tecniche adeguate e possiede tecnologie avanzate per ristrutturare questo pianeta. Noi siamo riusciti a danneggiarlo, a rovinarlo fino a un limite quasi insostenibile. Eppure il Dio creatore è in grado di risanarlo. Molti sono convinti che certo Dio ha creato il mondo e anche l'essere umano, ma poi stranamente non credono che sia in grado di ristabilire la terra e ristaurare un'umanità capace di vivere felice in essa. Eppure se Dio è stato in grado di creare un mondo perfetto, ti assicuro che sarà pure capace di ricrearlo, di restaurarlo. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e durerà per sempre. E questa è la predicazione profetica. Le profezie affermano chiaramente che Dio ristabilirà il suo regno e lo preserverà per sempre. Puoi essere sicuro che se è Dio a volerlo fare, lo farà di certo e lo farà bene. Magari non ci riescono i politici, gli strateghi, gli eserciti, ma Dio è in grado di farlo. E la profezia dice che farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Come abbiamo sempre detto nel Padre Nostro e come fin da bambini recitavamo nel Credo, il Signore verrà di nuovo per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà mai fine. Questo è il regno futuro che Dio stabilirà sulla terra. Il Salmo 37 ce lo descrive in modo molto chiaro. I giusti erediteranno la terra e la abiteranno per sempre. Potrebbe esserci un testo più chiaro di così e potremmo trovare un'istruzione più chiara. Come dice il testo, i giusti erediteranno la terra. La Bibbia insegna che l'eternità si vivrà sulla terra. Questo può sorprendere molti eppure è assolutamente in linea con la Bibbia. È perfettamente coerente. Dov'è che Dio ha creato l'essere umano? Lo creo in cielo sulla terra? Naturalmente sulla terra, affinché potesse vivere una vita piena, fisica, mentale e spirituale. E se l'uomo fu creato per vivere sulla terra, perché vivesse sulla terra e ciò era cosa perfetta, molto buona, perché adesso dovrebbe essere diverso? Perché adesso dovremmo credere che la perfezione per l'uomo dovrebbe essere l'assenza di corporeità, il vivere fuori della terra in una qualche forma spirituale disincarnata? Per quanto interessante potrebbe sembrare questo un insegnamento pagano che proviene dall'animismo, il quale mette in dubbio il fatto che i morti sono davvero morti. Ma in realtà la Bibbia insegna che Dio creò l'uomo sulla terra e alla fine, restaurato con essa, l'uomo sarà felice per l'eternità in una terra perfetta. Questa dottrina biblica è chiamata la nuova terra e questa vita sulla nuova terra sarà per sempre. Come dice la Bibbia, il Signore conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in eterno. Significa che non è qualcosa di temporaneo, ma è per sempre, dura in eterno. La Bibbia dichiara che Dio restaurerà il mondo e tu puoi stare certo che lo farà. L'umanità continuerà a vivere su questo pianeta per sempre. Il fuoco è simbolo di purificazione e distruzione. Perché? Purifica il bene perché distrugge il male. Nella Bibbia Dio predice che purificherà questo mondo distruggendo il male e tutti coloro che si identificano con esso. Questo è per noi un accorato invito a purificare la nostra vita da ogni forma di male. Il fuoco ci ricorda pure la dottrina dell'inferno, un'ipotesi atroce che non è presente nella Bibbia. Secondo questa dottrina il fuoco eterno tormenterebbe i perduti per l'eternità. Ma questo sulleva seri interrogativi. Per esempio, un Dio d'amore, un Dio nobile e buono potrebbe condannare le sue creature a un tormento eterno come questo? D'altra parte le persone che vengono salvate come potrebbero essere felici nel vedere alcuni dei loro cari che soffrono nel fuoco dell'inferno per l'eternità senza fine? Non avrebbe senso. D'altra parte immaginiamo Hitler ad esempio responsabile della sofferenza e della morte di milioni di persone. Se morendo fosse andato all'inferno soffrerebbe comunque migliaia di anni meno di Caino per esempio che uccise una sola persona e Caino invece per l'appunto soffrerebbe migliaia di anni più di Hitler. D'altronde la Bibbia dice che Gesù Cristo tornerà sulla terra per giudicare i vivi e i morti. Cioè la condanna sarà emanata quando verranno giudicati i morti. Allora perché ci viene detto che ci sono persone all'inferno? Perché sarebbero già condannati dal momento che non sono state ancora giudicate? Questa spietata dottrina dell'inferno ha indebolito la fede di molta gente, ha scoraggiato tanti cristiani i quali non riescono a concepirla. Per fortuna noi in questo studio troviamo risposte adeguate. A me piace molto questo argomento della nuova terra perché è dove pianifico di trascorrere la mia vita futura, cioè la vita senza fine con tutti i salvati e con Dio e suppongo che si è interessato anche tu per lo stesso motivo. Quindi esaminiamo adesso altre informazioni sulla Bibbia su questo argomento. Il Salmo 37 dichiara ancora un po' e l'empio scomparirà. Abbiamo sentito bene? Presto il malvagio non esisterà né all'inferno né in paradiso né in purgatorio. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più, ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. In questo testo sono chiare due opzioni, i due percorsi alternativi tra i quali possiamo operare la nostra scelta. Alcuni accetteranno di essere salvati dall'amore e dal perdone di Dio, altri rifiuteranno il perdono divino e moriranno per sempre. Queste sono le uniche due alternative che ci presenta la Bibbia o la distruzione e la morte eterna oppure una vita eterna completa e felice sulla terra. Esaminiamo come lo insegna la Bibbia. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Anche in questo testo biblico sono presenti due percorsi, le due opzioni. Da una parte alcuni hanno la vita eterna e la felicità sulla terra in un pianeta perfetto, rinnovato. Altri sono annientati per sempre e cessano di esistere. Infatti il testo dice vedrai lo sterminio degli empi. E' ciò che afferma pure Apocalisse capitolo 20 versetto 9. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Questo testo è molto importante perché ci presenta come una fotografia, un reportage sugli eventi finali della storia del mondo. Qui vediamo come coloro che si sono ribellati a Dio tentano disperatamente di conquistare con la forza la nuova terra e come vengono annientati da Dio per l'eternità. Il testo dice con chiarezza, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Questo ci insegna la profezia. Apocalisse 20 continua. E' il diavolo che le aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. L'insegnamento tradizionale parla del diavolo che sarebbe custode dell'inferno e dice che egli sarebbe l'artefice della sofferenza dei dannati mediante il fuoco eterno. Però, sorpresa, nell'insegnamento della Bibbia non è così. Il diavolo sarebbe un personaggio eterno responsabile del fuoco eterno? No! Il diavolo sarà gettato egli stesso nel lago di fuoco per essere distrutto per sempre. E così si realizzerà l'insegnamento della parabola di Gesù, che la zizzania sarà gettata nel fuoco per essere distrutta completamente per sempre, mentre il grano sarà conservato nel suo granaio. Leggiamo ancora nella Bibbia in Giuda 7. Dato che alcuni testi biblici fanno allusioni al fuoco eterno, ci sorge una domanda. Questo fuoco eterno sarebbe eterno nel senso che arderebbe eternamente oppure nel senso che distrugge per sempre ciò che brucia? Risponde la Bibbia. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. Qui la Bibbia parla di Sodoma e Gomorra. Queste città subirono il castigo del fuoco eterno, eppure non stanno continuando a bruciare. Queste città, Sodoma e Gomorra, portano la pena di un fuoco eterno perché il fuoco che le consumò non potesse essere spento. Continuerebbero a bruciare in eterno se il fuoco trovasse ancora carburante, ma una volta che è tutto arso, che non c'è più niente da ardere, il fuoco si spegne. Ecco perché oggi non vediamo bruciare le città di Sodoma e Gomorra. Per il fatto che il fuoco eterno nei suoi effetti le ha incenerite e le ha distrutto per sempre e per sempre per l'eternità. Questa espressione, fuoco eterno, dovrebbe essere tradotta fuoco il cui risultato è eterno, che distrugge per l'eternità. E così arriviamo a questa affermazione drammatica. Non lascerà loro né radice né ramo. Così dice la Bibbia in rapporto ai perduti. Non è vero che stanno soffrendo all'inferno come ci viene tramandato da insegnamenti tradizionali. No, Dio non farebbe niente di simile. Dio è un Dio di amore. Dio dice dei malvagi che non lascerà loro né radice né ramo, che saranno sotto i nostri piedi come cenere. È proprio così che dice la profezia nel libro di Malachia capitolo 4. Il giorno viene ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come i vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi. I malvagi saranno cenere sotto la pianta dei nostri piedi. Ci è stato detto che starebbero bruciando nel fuoco dell'inferno per l'eternità, ma la Bibbia dice che non lascerà loro né radice né ramo, che saranno come cenere sotto la pianta dei nostri piedi, distrutti per sempre. Infatti i salvati, mentre si stanno godendo la vita eterna, come potrebbero essere felici se dovessero continuare a vedere per l'eternità i propri cari soffrire le pene dell'inferno, non avrebbe senso. Perciò l'insegnamento biblico combacia perfettamente con la logica e la coerenza. Romani capitolo 6 dichiara perché il salario del peccato è la morte. Non dice che il salario del peccato è l'inferno o che il salario del peccato è il tormento del purgatorio. No! Dice perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Sono solo queste due le alternative che indica la scrittura, la morte o la vita. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E queste sono le due opzioni che ci presenta la profezia. Sono queste le due opzioni che ha l'umanità, la vita eterna felice o la morte eterna, l'annientamento, la distruzione per sempre. Quando ero piccolo, osservavo attentamente il quadro che mia nonna aveva appeso alla parete e raffigurava alcuni angeli, piccoli, pafuti, guancette rubiconde, e avevano solo le ali e la testa. Tutti questi angioletti avevano solo le ali e la testa. Io ero preoccupato per questo, perché a me non sarebbe piaciuto essere come loro, per cui chiesi a mia nonna, nonnina, quando vado in paradiso sarò come questi angioletti. E lei rispose, certo che sì, tesoruccio. E questo mi preoccupò più ancora, quindi ero più preoccupato perché volevo avere un corpo completo, non mi elettava affatto l'idea di avere solo la testa e le ali. La mia preoccupazione cresceva finché decisi di chiedere maggiori spiegazioni ad altri familiari finché la cosa divenne un po' più chiara. In effetti, quando studiamo la Bibbia comprendiamo che nell'eternità avremo una vita fisica, esattamente come Dio l'aveva previsto originariamente quando creò l'uomo sulla terra. Infatti ecco che cosa dice il testo biblico in Isaia 65. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Si intende una vita fisica. I salvati avranno una vita fisica piena, perfetta, straordinaria, ma una vita fisica con un corpo fisico, come Dio l'aveva creato in principio così l'uomo sarà di nuovo per l'eternità. Il testo continua, non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, i miei eletti godranno dell'opera delle loro mani. Significa che ci sarà giustizia, non ingiustizia come succede adesso. È molto comune nel nostro mondo attuale che uno pianti e un altro mangi, che uno soffra perché un altro viva nel lusso, che ci sia oppressione, che ci sia ingiustizia, saccheggio, disuguaglianza, violenza. Però nella nuova terra le cose saranno diverse. I miei eletti godranno dell'opera delle loro mani. La Bibbia dice ancora, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Anche questo sembra incredibile, lo possiamo capire solo sapendo che è un miracolo di Dio. Significa che Dio ha creato un mondo perfetto, pacifico, con l'assenza della morte e in piena armonia e lo stesso Dio farà la nuova terra come quella originale. Al capitolo 11 Isaia dice ancora che il bambino stenderà la mano nella buca del serpente per giocare senza averne danno. Non ci sarà aggressività né morte e nessuno dei pericoli del nostro tempo. Oggi l'ecosistema è quello che è, ma quando Dio farà nuova ogni cosa, conosceremo una realtà che adesso è fuori dalla nostra portata. Il testo biblico dice, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Significa che nella nuova terra non ci saranno più tutti i difetti fisici che vediamo adesso. Ho letto questo testo per insegnare questa speranza cristiana in una casa di riposo. Poi chiesi a tutti gli anziani presenti, sapete quante stampelle ci saranno nella nuova terra? Ed essi risposero, nessuna, nessuna, perché lo zoppo salterà come un cervo e tutto sarà perfetto. Non ci saranno imperfezioni e tutto sarà meraviglioso. Allora chiesi ancora, sapete quante dentiere ci saranno nella nuova terra? Ed essi di nuovo, nessuna, nessuna! Ed erano contenti di questa speranza cristiana, della speranza che, come disse Gesù nella Bibbia, i mansueti erediteranno la terra. E chiesi ancora, e quanti occhiali ci saranno nella nuova terra? Quante sedie a rotelle? Ed essi risposero, niente, niente! Che straordinaria promessa di Dio, un mondo felice preparato per noi. Sarà come dice la profezia, poiché così parla il Signore. Ecco, io dirigerò la pace come un fiume, come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi. Ed ecco il dettaglio che mi piace di più. Quale sarà il nostro stato d'animo? Come ci sentiremo lì? Sarà come se Dio ci dicesse, avete sofferto molto, vi siete confrontati con la malattia, la morte, le disgrazie, ma ora sarà tutto diverso, adesso stabilisco il mio regno e tutto andrà bene. La profezia di Apocalisse si afferma, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E io ti posso assicurare che se la profezia di Apocalisse dice così, così si adempirà. Perché così accade sempre con la Bibbia. Se è scritto nella Bibbia si avvera, si avvera sempre al cento per cento. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Cioè cose che non abbiamo mai nemmeno immaginato. Vediamo così che tutto quadra, tutto converge in modo coerente con il racconto biblico. In principio Dio creò l'uomo come un essere fisico perfetto. E nella nuova terra Dio torna all'originale e ristabilisce un genere umano di uomini e donne senza difetti, che li rende felici in una vita fisica perfetta, come perfetti erano stati nel piano di Dio alla creazione. Forse ti hanno parlato di vita in cielo senza un corpo, ma la profezia parla di una vita fisica. Magari ti hanno parlato di paradiso e inferno, ma le opzioni fornite della Bibbia sono la distruzione dei peccatori e la vita eterna dei figli di Dio sulla terra, per coloro che scelgono di seguire Gesù, di ubbidigli e di accettare il suo perdono. E così, come dice il testo, il Signore ha preparato le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo. Mi ricordo di un'esperienza che mi raccontarono. Un missionario mostrò casualmente agli indigeni una lampadina elettrica disinnescata, quindi spenta. Però scoprì all'istante che essi non avevano mai visto una lampadina, così non si stancavano di ammirare questa lampadina, così tondeggiante, così liscia, così lucida, con il vetro tanto trasparente che rifletteva la luce del sole. Erano così interessati e la toccavano una, due volte, tre, di nuovo. Tutti gli indigeni continuavano a stare intorno a questa lampadina, a guardarla, a toccarla, qualcosa per loro di incredibile. Nel frattempo il missionario stava lavorando per riparare l'automobile e il generatore di corrente. Intanto giunse la sera e si fece buio. Il missionario collegò la lampadina al cavo del generatore e la lampadina si illuminò. Per gli indigeni lo stupore raggiunse il culmine. Già erano stati colpiti dalla lampadina spenta, ma potevano immaginare che essa avrebbe diffuso una luce così intensa. Continuavano a manifestare stupore alla vista di quella cosa, già di per sé straordinaria, che adesso brillando andava oltre quello che avrebbero mai potuto immaginare. Qualcosa di simile accadrà a noi quando entreremo nella nuova fase della storia. Secondo Stephen Jokins e altri, al nostro mondo corrotto non rimane che colonizzare l'universo, abbandonare la terra o rigenerarla. La buona notizia però è che Dio ha scelto di rigenerare la nostra terra e di renderla un mondo bello e felice affinché i suoi fedeli possano vivere in essa per l'eternità. E queste sì che sono buone notizie. Al prossimo studio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!